E' un secolo che fate gli spettacoli lì nel teatro greco, quindi solo voi siete, è molto speciale e mi sento molto onorato. L'impressione è che traspaia già una grande gioia in questo suo lavoro qui a Siracusa. Io sono sempre molto contento quando faccio queste cose, perché il lavoro dello scultore è duro, è sempre con l'attenzione dell'artocritica che mi fa disperare. Nella scenografia sono più libero, più gioioso e vado perché tanto è una scenografia, va bene, quindi ho la scusa della scenografia e nessuno mi può dire nulla perché è già forte la scenografia. L'elemento fisso è la porta di cui avete visto il bozzetto. Poi dopo a livello del terreno, si, esatto, degli elementi che vengono su, vengono su, vengono apportati.